Il prossimo 25 settembre alle ore 21 nel Palazzo del Mare di Roseto degli Abruzzi verranno presentati i primi risultati riguardanti il progetto di catalogazione e collezione digitale delle opere del pittore Pasquale Celommi a cura dell'Associazione Celommi dal 1851 presieduta da Riccardo Celommi. Un lavoro di catalogazione che serve a restituire visibilità ai pittori della luce, così erano stati definiti Pasquale, Raffaello e Luigi. Partendo da Pasquale abbiamo iniziato a fare una ricognizione delle opere presenti sul territorio abruzzese, nazionale e anche estero perché ricordo che le opere di Pasquale Celommi sono in tutto il mondo. Adesso è ormai un anno che lavoriamo alla catalogazione e praticamente il 25 settembre prossimo inaugureremo questo lavoro svolto fin d'ora, fino adesso. avremo praticamente daremo evidenza al lavoro che abbiamo fatto fino ad adesso portando alla luce quadri inediti e connessioni anche con articoli di giornale dell'epoca, cartoline, lettere ed altro. Per questo progetto si sono prestati persone con diverse mansioni che ringrazio, giornalisti, storici, storici dell'arte, restauratori, avvocati ed altro, rendendo possibile questo ambizioso progetto. Ricordo che da una stima fatta parliamo di circa 6.000 opere fra tutti e tre i pittori, di Pasquale invece siamo sulle 2.000 opere.